Ai finanzieri alla Dogana di Brogeda, un automobilista italiano diretto in Svizzera ha dichiarato di avere solo 300 euro. Non convinti, i militari delle Fiamme Gialle hanno approfondito il controllo e hanno scoperto che l'uomo nascondeva più di 200 mila euro, oltre a due orologi preziosi. L'automobilista è stato controllato nell'ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di valuta tra Italia e Svizzera, coordinate dai funzionari della Dogana della sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza del gruppo di Ponte Chiasso. Durante i controlli è stata fermata la macchina diretta in Svizzera. I finanzieri hanno scoperto 215 mila 410 euro in banconote di vario taglio, nascosti nel bagagliaio personale dell'automobilista all'interno di alcune buste di plastica, assieme a due orologi Rolex. Come previsto dalla norma che stabilisce l'obbligo di dichiarare in Dogana eventuali somme trasportate pari o superiori a 10 mila euro, i finanzieri hanno sequestrato il 50% della somma eccedente per un totale di 102.705 euro e hanno trattenuto i due orologi sotto controllo doganale per gli accertamenti necessari.